Margherita, bambina pisana di otto anni, disabile e costretta sulla sedia a rotelle, coronerà il suo sogno di salire sulla torre di Pisa e visiterà il campanile più famoso del mondo. A rendere possibile l'impresa la determinazione di Babbo Junio Cristiano e di tanti volontari. Me lo ha chiesto il 10 aprile scorso, il giorno del suo compleanno, ricorda il padre alla nazione. Allora le ho promesso che mi sarei allenato e l'avrei portata in braccio fino all'ultimo dei 297 gradini. Poi si è attivata una catena di solidarietà con l'opera primaziale pisana che, contattata dai genitori della piccola, si è messa a disposizione. A settembre Margherita salirà sulla torre pendente sulle spalle del padre all'interno di uno speciale zaino tipo quelli da trekking e a seguire l'evento ci saranno anche i rappresentanti del CUS, il Centro Sportivo Universitario Pisano, perché quello sarà davvero un giorno storico. La collaborazione fa scomparire gli ostacoli, un messaggio universale per tutte le fragilità.